cari amici buongiorno zio hack migliorati.org e se mi ascoltate attentamente fino alla fine vedrete che vi imparerete delle cose interessanti sul passare da beta a alfa questo è l'argomento del corso commerciale di questo mese poi prometto di non far più marchette lo devo citare all'inizio perché se no sembra che questo sia un corso completo non lo è però se ascoltate imparerete delle cose interessanti sicuramente molto controverse nel giorno d'oggi sulla diventare primariamente più dominanti ecco il mio primo avevo promesso ai miei clienti di hna una giornata più antica università italiana dal novembre 2007 università del miglioramento personale underground ecco avevo promesso di non far la marchetta l'ho fatto portate pazienza almeno ai nuovi devo spiegare di cosa parliamo insomma avevo promesso un aggiornamento dell'argomento seduzione ecco sono stato tra i nei primi tre in italia a parlare dell'argomento seduzione perché perché come sempre uno si mette a studiare parla delle cose di cui ha più bisogno quindi sono partito da un mio da una mia sofferenza da un mio dolore da una mia area carente nel nel mondo appunto delle relazioni nel mondo femminile del sesso di tutto questo ecco in questo corso vi spiegherò 23 segreti trucche tecniche queste sono le parole che fanno figo nel marketing però per diventare veramente incarnare incarnare la parola giusta diventare corporeamente un seduttore cosa vuol dire passare da uno stato di beta di come sapete abbiamo delle risposte arcaiche nel nostro sistema nervoso che quando minacciato o generalmente ha dei comportamenti o sub di fuga o congelamento o dominanti in cui è guerriero ecco io mi insegno a diventare un po guerriero ma attenzione non batman anche se fa figo fatto un corso su come diventare batman ma a dominare diventare dominante nel modo giusto quindi una persona come diceva i tempi quando è uscito the game mystery che guida gli altri e protegge i più deboli quindi gli infanti e gli anziani e tutto il resto un protettore è un leader buono ma soprattutto qui parleremo proprio di come diventare un alfa un guerriero un dominante moderno moderno che è molto diverso attenzione quando si parla da beta alfa non mi cadete per favore nella trappola binaria nello 0 1 cioè o sei beta o sei alfa no 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 è come sempre è una logica fasi sfumata 50 sfumature di grigio christian gray è un alfa o è un beta ha dei tratti alfa ha dei tratti alfa di vecchio tipo se volete 1.0 gli mancano dei tratti dell'alfa 2.0 e anche a fine romanzo si li ho letti tutti e leggerò anche il prossimo ho letto anche ho letto tutta e il james lo confesso e mi ha fatto anche bene è stata terapeutica poi nel corso vi spiego meglio come ha dei tratti che non sono assolutamente moderni e assolutamente da alfa attuale quindi vediamo di spiegare un po meglio ma prima dobbiamo vedere il perché questo corso avrete già capito dei termini è unico al mondo ecco perché i contenuti sono presi da una marea di modelli molti dei quali creati da me e siccome c'è al momento c'è solo uno di me è fatto così poi parleremo anche della scuola di pallo lungo e quella di pallo a largo che fondo in questo in questo audio però vediamo un attimo perché questo corso per le donne perché per le donne prima di tutto per capire meglio in generale gli uomini due per cercare l'uomo giusto perché la maggior parte delle donne non tutte come sempre non tutte non esiste la maggior parte cerca un uomo di tipo dominante e poi perché se non hanno un uomo di tipo dominante lo potete dare questo al vostro uomo e può diventare un uomo dominante esistono donne dominanti sì sono rare ve lo dico già sono un po più rare e ho provato sono stato con una che non posso neanche accennare perché è molto famosa non mi va di danneggiarla a livello di immagine nessun modo è un dominante io ai tempi ero molto beta e in infieri come si dice in latino in fase di costruzione è comunque anche un uno che lo vuole diventare e una dominante sono totalmente incompatibili per le relazioni ma sono assolutamente compatibili per le amicizie e per il lavoro poi parlerò anche della dominanza esterna quell'interno questo nel corso soprattutto nella fase sessuale ecco però se trovate una donna dominante per lavorare è il top ecco questo è importante ma ne ripeto questo corso può essere utile per cercare capirlo meglio aiutare il vostro uomo a migliorarsi ovviamente per uomini questo corso è utile per esprimere a pieno il vostro potenziale e maschile e vivere a pieno ecco quando dico maschile attenzione che qua parte subito quella cazzo di logica binaria che vi ho detto la trappola binaria è ovunque si parte con uno sceming oggi nella nostra società per via di pochi coglioni che non si sanno comportare c'è un politica li corre sul genere maschile cioè in questo momento c'è in corso un vero e proprio sceming come si dice in termini moderni è che un uomo si deve quasi vergognare deve quasi scusare di essere uomo beh vaffanculo no ecco se avete questo tipo di problemi questo non è il canale per voi non non c'è un pro contro siamo tutti della stessa specie non solo razza umana ma specie siamo tutti sapiens su questa terra come dice a rari non esistono altre razze e quindi queste distinzioni ci debbono essere ma debbono essere basate su quella che redaglio chiama una meritocrazia di idee in questo caso io conio il termine in questo in questo momento di razzismo di idee quindi il razzismo non deve essere verso chiaramente non la razza perché tutto umana ma questo diciamo dove uno mette lo stop non deve essere a livello di di generi che ce ne sono tantissimi adesso giustamente perché ognuno è unico e si esprime finalmente in modo libero sono come dice qualcun altro libertario e libertino e ma appunto a livello di idee e dobbiamo però educarci alle idee costruire la nostra filosofia di vita e continuare ad aggiornarla ecco questo è importante se no la bibliografia qui la bibliografia ci sarebbero tanti però metterei tutto il libro di poi li trovate sotto nel testo del blog di black dragon l'alfa 2.0 book il libro di ancora una volta olivia foxca ben sul carisma ma onestamente per questo tipo di corsi essendo materiale mio e come ripeto unico al mondo non c'è una vera bibliografia cioè di sicuro se anche vi studiate tutti quei libri altri non trovate questo corso devo dire che questo mercato il mercato dove iniziato della seduzione è un mercato veramente allarme zona fuffa e fuffa adesso escono tutti così esce il quello di turno sono super figo vuoi cuccare come me guarda come vado questa strada e faccio le donne ma la seduzione per me non è mai stata quello la seduzione trovi una persona che ti piace e usi al massimo il tuo potenziale per attrarla e questo è il corso in cui spiego come incarnarlo e i consigli dati molti quasi tutti vanno bene anche per le donne anche se molti le donne applicati e altri invece sono radicalmente fuori dal loro schema e quindi aiuteranno molto perché ricordatevi che sia uomini che donne parleremo di massimizzazione del testosterone hanno il testosterone come anche gli uomini hanno gli estrogeni hanno la prolattina cioè i meccanismi interni sono quelli ma in proporzioni diverse le donne ne hanno un decimo ma sono molto più sensibile infatti esistono dei trucchi spero di ricordarmene uno che lo dico nel corso per far rispondere molto velocemente la donna al testosterone per cui dominante leader attenzione non batman cioè gli esempi estremi nevi silsi david david goggins no e non sono vera dominanza perché perché di base portano una delle trappole che poi vedremo nel corso uno dei pericoli che sono l'over training l'over training è uno dei pericoli del testosterone lo abbassano ecco quindi vedremo ecco vediamo subito qual è la differenza tra un beta in generale un sub una persona succube passivo aggressiva infine in fuga va tutto bene sicara 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 e poi nel corso vi dico una cosa che se la dico qui sarebbe troppo controverso e qualcuno si incazza ma è biologicamente e a livello di comportamento corretta ecco quindi la differenza allora ci sono gli alfa del tipo vecchio che sono un po i nostri genitori i nonni quando sono di tipo dominante sono sembra quello sempre che comanda ma non sono l'alfa che dico io l'alfa che dico io è più avanti nello spettro e ha superato una il pericolo numero uno del dominante vecchio che la gelosia che è fondamentalmente paura quindi entrato nel suo viaggio dell'eroe affrontato le paure ed è più distaccato quindi vedremo un dominante distaccato allo stesso tempo due apparenti polarità diverse vedremo anche velocemente come lavorarci che con le tecniche preciso che ci sono tantissimi tipi ho già detto che non è binario non sei o succube o dominante o sub o beta o alfa ma c'è uno spettro e quindi non è binario non vi fate intrappolato alla trappola binaria e poi c'è l'unicità quindi ci sono tanti tipi di quel tipo di carisma dominante c'è quello che è più caldo c'è quello che è più direttivo e anche in contesti diversi si comportano in modo diverso in sostanza essere dominante vuol dire abbracciare chi si è davvero quindi non vuol dire aggiungere ecco qual è il problema finale della seduzione quello che non tratterò in questo corso sono i trucchetti esterni cioè io ti insegno ad andare per strada ti insegno questo trucco magari ti insegno anche la postura e li ho fatti sono stato il primo tra i primi insomma i primi tre in italia a fare questi corsi ma i trucchetti esterni velocemente ho capito che sedurre divertendosi non era il conto principale ma i partecipanti avevano bisogno di un corso che ho creato subito che è stato cambiare divertendosi ovvero l'inner quello che chiamiamo inner gain quindi nel corso parleremo prima di tutto nel come della parte corporea e ovviamente rivedremo la nostra piramide del biohacking andate a cercare cercate zioac piramide e biohacking benessere salute perché si parte sempre da lì è creata sulle basi della ricerca scientifica tant'è vero che examini è una simile ma gli manca la base non hanno preso in considerazione lo stress anche se poi nella pagina esamine.com ha una bella pagina del testosterone poi li evidenziano sotto certi aspetti che il nemico numero uno è l'overtraining che è appunto una forma di stress quindi vedremo che ci sono tipi di allenamenti che non vanno tanto bene per essere nominanti e noi pensiamo che appunto gente che li fa già citati siano super mega dominanti dei batman in realtà proprio anche biologicamente parleremo molto di biologia non lo sono non lo sono ecco quindi vedremo quali sono le due attività principali che danno come dico gli americani the biggest bang for the bucks quindi più risultati con meno sforzo in questi casi lo dico già però insomma ho già accennato al fatto che le relazioni richiedono una polarità e quindi più una donna è nella in una natura che adesso non me ne voglia nessuno un essere umano non uso il politica licore gender neutral proprio un essere che si vede femminile e nella sua polarità femminile è più attratta non essere nella polarità maschile e vedremo in tutto questo come essere un appunto un alfa moderno che è non è uno stronzo in sostanza molte donne sono attratte dagli stronzi perché sono anche molto dominanti ecco noi vedremo come essere un alfa mindful quindi generale sexy che anche sotto certi aspetti un paradosso che vedremo poi nel corso vedremo anche velocemente un anche un discorso del testosterone come ormone che ripeto hanno hanno tutti e diverse considerazioni sui supplementi che ci sono in giro che ve lo dico subito allarme fuffa fuffa ancora di scientificamente provato non c'è non c'è nulla poi ci saranno tante cose interessanti che devono per forza andare nell'altro coso ecco un altro aspetto che qui appunto ho detto fondiamo ufficialmente la scuola di palo largo cosa vuol dire che un vero alfa uno dominante moderno non è uno che lì col centimetro a misurarsi con gli altri a competere è uno che sta competendo con se stesso come per allargare non per vedere chi ce l'ha più lungo appunto quella è la scuola di palo lungo e ne troviamo tanti anche su club house a volte ne faccio parte lo ammetto su ce l'ho più lungo di te ma la scuola è una battuta legata ovviamente alla scuola della terapia sistemica vabbè chi non chi la capisce complimenti complimenti per avermi ascoltato fin qui scrivete sotto nei commenti sui social se siete più di palo lungo o di palo largo onestamente oppure di di palo alto che è la scuola originale ok e cosa vuol dire essere di palo largo intanto è più anatomicamente corretto nel mio caso poi secondariamente vuol dire che è uno è rinascimentale orizzontale colto david epstein un lavoro molto molto interessante range è il libro che hanno tradotto in italiano poi vi mettiamo anche quello nella nella bibliografia aspetta che lo scrivo subito e tutto dal vivo e tutto senza appunti quasi c'ho c'ho una mappa non ve la mettiamo anche guardate nel del promo così capite che nessun essere umano può parlare con quegli appunti così ecco uno è orizzontale molto orizzontale quindi una volta se ai miei tempi che era quando i dinosauri giravano sulla terra era rinascimentale e raccolto sapeva un po di tutto ma ripeto in termini moderni uno è smart science based questo è molto importante perché l'esatto opposto di un dominante è uno che ogni volta che arriva ad esempio della una catena della disinformazione un messaggio virale è lì attaccata ai social dipendente da varie cose dai social quello non è un alfa è uno che ci deve lavorare e tutti noi attenzione non sto facendo shaming su quello tutti noi ci siamo passati ci stiamo passando io ricordo tempo fa l'avevo detto a un mio cliente che ancora mio cliente a stefano avevo detto al momento io sono dipendente dalle serie tv le guardo troppe sono sicuro che tra qualche anno passerà perché con me così non è all'inizio è uscito clubhouse ero sempre su clubhouse adesso sono solo istanze molto verticali e raramente eccetera ecco allora allo stesso modo mi è molto difficile essere dipendente da qualcosa proprio per quello che faccio quindi l'esatto opposto di essere l'esempio del beta è uno che ha dipendenze oltre a essere è sottomesso è la definizione sottomesso dalla tecnologia dalle sostanze dagli eccessi che vedremo danneggiano il testosterone e quando va subito in un eccesso emotivo che è tipico non del testosterone che quando c'è una dominante di testosterone uno è mindful come si usa dire oggi mindfulness ma è presente qui e ora aperto senza giudizio ecco questo è per me è un dominante moderno che non può essere uno che appena esce una bufala virale e ne parlo perché è una cosa che ci infetta tutti a livello mentale e subito corre a diffonderla si arrabbia si arrabbia altro termine per essere beta che a questo punto dovete stare attenti tutti uomini e donne e essere vittima ecco vittima rispetto a una quindi vittima è proprio il livello più basso di una piramide chiaramente se uno è sempre lì a discutere di cosa farà il governo col colore virus o ci ha messo in lockdown a uno è vittima ecco perché dico prima roba le basi via la viralità via le disinformazioni via le bufale dalla vostra vita non ce ne essere neanche una frazione lo sa perché chi prova a girarmene una ottiene risposte che non gradirà che sia se poi in lista le otterrà avrà dello scemo in pubblico perché io devo reagire a quella cosa perché in quella cosa non sono ancora così distaccato sullo spettro quindi tutte queste reazioni emotive e attenzione non sto dicendo che l'alfa moderno essendo distaccato è un robot no 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 è l'esatto opposto vive appieno il range delle emozioni ecco uno di questi che ha creato i primi concetti black dragon caleb jones commette un grave errore legato alla psicologia contemporanea ovvero quello di dire che l'obiettivo dell'alfa 2.0 l'ho detto anche io nei miei corsi quindi qui sto portando pubblicamente la correzione è la felicità a lungo termine sbagliatissimo grazie a gennaio romagnoli che mi ha segnalato l'act che mi ha anche spiegato che l'articolo 33 della costituzione in cui la scienza quindi anche la psicologia anche la psicoterapia uno non può fare gli agnosi o cure ovviamente se non ha quella laurea non è iscritto all'albo e questo è giustissimo però la può divulgare perché l'articolo 33 costituzione andatevelo a vedere dice che la scienza è libera nella divulgazione quindi come quello mi permette di segnare queste cose mi ha consigliato un bellissimo libro che aggiungiamo anche questo che è rass herris la trappola scrivendo come sempre la trappola della velocità consiglio la versione illustrata perché perché tutti noi è più facile leggere i fumetti capito il concetto generale probabilmente vi rimane di più di un libro dettagliato comunque è molto divulgativo è assolutamente è un fantastico reimpacchettamento con una metacognizione un po' diversa di certi concetti della pnl in questo libro spiega perché la felicità vista comunicamente come ricerca del piacere quindi come edonismo ma soprattutto come stato emotivo unico dentro il nostro flusso non può non può essere così perché abbiamo delle oscillazioni e quindi essere un alfa moderno vuol dire essere vivere appieno tutto il range emotivo che abbiamo anche quando emerge la rabbia quindi non respingere le emozioni ma abbracciarle ricordatevi che sono quello che mondialmente ha creato una tecnica che si chiama abbraccio amorevole e che tutte 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 le tecniche e qui lo voglio ribadire perché importante di pnl effetti gli esercizi funzionano perché quando arriva un'emozione poi se ci trovate in qualche room con gennaro con manuel maurico con i miei amici che sono amici non sindicati cioè mi piacciono come esseri umani tempo fa avevo spiegato un concetto del marketing che è il sindico e l'associazione mafiosa che cos'è quando un gruppo di trainer che si stanno pesantemente sul cazzo si mettono insieme per condividere i loro contatti eccetera in presentazioni ecco è cosa diversa invece quando un gruppo di amici gente che comunque si parla tutti i giorni si sente tutti i giorni fa delle cose insieme quindi poi nelle varie presentazioni se volete su clubhouse i prossimi social audio che arriveranno parleremo faremo parlare meglio Genna di queste cose che sicuramente vi aspetta però qualsiasi tecnica che ho presentato fino adesso questo parte dalla accettazione delle emozioni e niente più della tecnica che proprio io ho creato al mondo che l'abbraccio amorevole ha quella componente di abbraccio delle emozioni quindi da beta alfa 23 trucchi segreti per far diventare automatica la seduzione nel proprio modo di essere ovvero come diventare a livello corporeo sto facendo adesso la marchetta lo spot e corso un dominante un guerriero se volete moderno intelligente rinascimentale colto scientificamente basato con la componente di corporeità la componente vedremo di inner game quale parte è l'inner game vedremo tre aspetti essenziali che ci devono essere quando siete davanti soprattutto nella seduzione una persona dell'altro sesso quindi prima il lavoro fisico poi il lavoro da fare internamente poi parleremo un attimino di come aumentare il testosterone e perché c'è tanta fuffa dietro e come risolverla ecco questo è tutto sicuramente poi mi verrà in mente qualcos'altro parlerò anche di come gestire con le tecniche che uso io gli aspetti che danneggiano un'alfa in transizione che sono appunto la gelosia che ha sottofondo di paura vi dirò anche che tecniche ho usato e hanno funzionato bene su di me però dovete conoscere le mie tecniche quindi non ha senso dirle di qui quindi scegliete di che scuola essere grazie per aver ascoltato il film mettete palo lungo palo alto anche senza palo se siete donne però ci sono anche donne è più raro persone di sesso femminile oramai il linguaggio è importante però è diventato troppo come dicevo all'inizio è diventato uno quasi un vergognarsi di essere chi siamo e questo non va bene neanche cioè come non va bene ovviamente in alcune categorie il politicamente corretto eccessivo secondo me fa dei danni questo è tutto spero di avervi quanto meno aperto la mente acceso delle candeline so che a volte quando spiego le cose come bere da un idrante può lasciare anche un po' di confusione non è vero che o forse è vero che l'inizio dell'apprendimento questo non ve lo so dire anche perché è una trappola binaria vero o falso è sempre uno spettro le 50 sfumature di cosa dall'altra parte quindi seguitemi su tutti i social perché ho contenuti unici su instagram unici su tiktok anche se non lo stiamo pubblicando più unici chiaramente quando parlo in clubhouse siete dentro sono sempre zioac h a c k e soprattutto unitevi al mio canale se volete meno informazioni quindi ogni tanto sono le cose importanti che poi in questi tempi è una al giorno vabbè portate pazienza almeno potete silenziarlo se volete lo guardate una volta al mese o al gruppo se volete far domande e lì trovate le mie risposte e domande precedenti domande e risposta in audio su tutti argomenti come questi chiaramente se siamo allineati bene se non siano allineati che cazzo ci fate qua ricordatevi di mettere le campanelle su tutti i social perché quando faccio le live e ogni tanto le faccio così siete certi di essere notificati per primi soprattutto su youtube quindi iscrivetevi al canale perché metto contenuti unici anche nel tag community ogni tanto quindi qualcosa trovate anche lì diversi da quelli che ci sono da altre parti insomma seguitemi lì perché sto cercando di espandermi lì e se avete un amico un'amica che è in linea con queste idee chiaramente se non è in linea appunto che cazzo ci fate qua ancora una volta la porta è aperta in entrata in uscita dicevo sempre attenzione a non sbattere il culo uscendo e soprattutto ecco nel corso per i miei clienti ripeterò tante tante cose perché già notte perché è importante che siano cementate dentro di voi e basta questo è tutto un grosso abbraccio a tutti comunque pubblico tutti i giorni quindi per un po' e vediamo come va e quindi ci sentiamo comunque ciao ciao